Un'intera settimana dedicata al dialetto fanese ha preso il via sabato scorso Fan Dialetto, un evento che proseguirà fino a domenica 11 promosso dalla Proloquio e dalla Fondazione Fanno Solidale sotto la direzione artistica di Nicola Anselmi con l'obiettivo di valorizzare il vernacolo locale. Relatore nonché collaboratore dell'iniziativa è lo scrittore fanese Ermanno Simoncelli. Il dialetto va per conto suo, quello che si tramanda è la lingua, è la lingua madre, perché è una cosa scientifica, la lingua madre viene insegnata fin dai primi anni di scuola. È una cosa che sta avvenendo sempre meno però, io mi rendo conto anche a casa mia con mia figlia che non parla il mio dialetto, però è anche un problema di evoluzione, di evoluzione proprio tipica di qualunque lingua. Mi raccontava però che a scuola non si poteva parlare il dialetto. Quella volta era proprio negato il dialetto, il periodo post fascista era stato negato perché nella scuola si doveva parlare l'italiano e basta. La nostra lingua madre, quindi l'italiano è un guai agli inglesismi, sappiamo che cambiavano i nomi quella volta, modificavano, il nome doveva essere concluso con la vocale. C'è chi sostiene anche l'esistenza di ben tre dialetti, quali? L'interlanfanese è composto di tre zone precise, una quella del porto, quella del centro e quella della campagna. Tipo in mare per esempio, i marinai hanno sempre usato un linguaggio molto forte, una tonalità alta. Mai sentite parlare a un marinai sottovoce? Oh, allora, bugita! Ad altissima voce a volte. Ma perché? Perché si parla da un'imbarcazione all'altra. Sempre per quanto riguarda i marinai, mi raccontava che spesso loro vivevano e rimanivano proprio in zona porto. Molti non avevano mai superato la linea della liscia, perché solo le donne a volte andavano in centro quando dovevano fare qualche acquisto, ma era una cosa molto rara. Un marito addirittura che aveva un fratello che si era sposato ed abitava nella zona di Calcinelli. Si scrivevano per sapere come stavano, come andavano, per sapere come va il figlio, se si sposa, cose di questo genere. E c'è stato addirittura uno che suo padre proprio non si era mai mosso dal porto, non era mai andato oltre la liscia, se non quando è Gita Punente. Gia Punente voleva dire morire, perché il cimitero di Fano si trova a Ponente rispetto al porto. Quindi Gia Punente voleva dire, ecco il porto è Gita Punente, tanto come tutti.